Non so se è stato difficile, perché dei bambini? Ti lascia bene, mi sembra una gente. Hai qualcuno, no? Come? I bambini? Sì, sì, non ti preoccupare, è tutto a posto. E poi c'è l'oltre, non è più una bambina. Non ti può essere bene? Sì, può essere, tra un po'. Judith è un ospedale, il giorno di notte. I bambini sono di solo. Devo parlarti, è immortante. Ah, no, sì. Ma il Mario è sconvolta. Qual è il problema? Non so mica che la tua storia non è, ma spero. Tu la conosco a memoria. Sì, così mi è stato detto. No, no. E' una cosa più importante di Carlo, che è finita da anni, no? È importante. Davvero? Perché? Che dove ti partire? Quando? Stasera, adesso, mentre decidiamo se telefonarti, no? Dovevo telefonarti. Poi, tu hai il bambino, non ho sicuro di riuscire a perdere. C'è l'unità di dire. Ti sono molto grazie a essere un'unità. Mi ha fatto una buona di Dio, dai. Cos'è che mi devi dire? Non so perché cosa ti abbia detto. Non so, come si sia permesso, ma che cosa? Adesso, senti, so che avete lo visto oggi, avevamo venuto una notizia. No, ne devo, ma... Mi ha detto che sei bene, mi dispiace. Non ti dispiacere. Non è bene. Comunque, continuano a capire. Perché hai pensato fosse necessario così di dirti l'improvviso, tutti questi anni? Ieri notte, ieri notte, ieri notte, senza neppure bisogno, tutto, ieri notte, non me l'ha detto ieri notte. Pranzo tutto ieri notte, mi ha detto lei. Sede, mi svegli tutta la notte, no? Sì, questo è esatto. Ieri notte, c'è detto tutti ieri notte, no? Questo non è esatto. Ieri notte, non me l'ha detto ieri notte. Ieri notte, non me l'ha detto quattro anni fa. Quindi non avevo bisogno di dire ieri notte, perché io già lo sapevo. E lei sapeva che io sapevo, perché è stata lei stessa dire ieri notte, quando la mia famiglia. Cosa? Penso che si sapevano. Credevo che tu lo sapessi. Tu credevi che io lo sapessi? E mamma mia aveva detto che non lo sapessi. Ma io non ci avevo perduto. Ma comunque pensavo che tu lo sapessi. Ma mamma mia mi dice che non lo sapessi. Te l'ha detto. Quando? Beh, per la verità l'ho scoperto da sole. Le ho detto che l'ho scoperto tutto e lei mi contemò. D'accordo. Ma quando? Oh, molto tempo fa, Gerry. Ma io ci siamo visti qualche volta negli ultimi 4 anni. Abbiamo anche fatto relazioni insieme. Ma non abbiamo mai giocato a Spongebob. Io l'ho detto ma io l'ho fatto. Sì, certo. Dai, non te la prendo. Non ne vale la pena. E adesso che si fa? Io e te niente. Il matrimonio è finito. Io devo solo mettere la posta alcune cose nel posto dei bambini e poi basta. Non hai mai pensato di dirlo a Anna? Mi dirà giù di troppo? Ah, di te e di Emma. Vuoi dire che lei non lo sapeva? E sei proprio sicuro? No? Non hai mai pensato di dirlo a tutta la lettera? Mi sembra che non capisca. Mi sembra che non capisca che la lettera è un cazzo di tutta questa storia. Sì, è vero, ma alcune volte le ero date a Emma. Ma non per difendere il principio. Ne è spinto da nessun tipo di malattismo. Avevo solo voglia di darle. E mi sarei passata. Sai, un po' di cosa di capire male. Cari, per me. Ma tu l'hai capita da l'arte? Sì, certo. Lei non l'ho mai saputa, no? E sei proprio sicuro. Io non l'ho mai saputo. No, non l'ho mai saputo. No, non l'ho mai saputo. Ma non l'ho mai saputo. Ma non l'hai saputo. Beh, sì. Diciamo che papà sapevi. Sì, l'ho vissuto con lei. Sì. Di college. Alcune molto rompia. Per sette anni. Sì. Di quello sapevi tutto ciò che c'era da sapere. Di quei sette anni di college. E invece di quelli non è so niente. Spero si sia presa buona cura di te. Eravamo molto legati una volta. Ma possiamo ancora? Ma il contatto chiesi per combinazione l'altro giorno? Credo abbia una storia con mia moglie. Sono anni che non ci chiamavano Sposchi. Quindi ci facevamo certe parti. Adesso si vuole il chilo. Sì, me ne sono fatto anche io. Eh, il figliaro del tuo mondo. Vedi? No. In che senso? No. La sua buona, i suoi libri. Ah, i suoi libri. La sua arte. La sua arte sembra sgattolarsi, non trovo. Però, bene, allora. Ah, se per il detto vende molto bene, benissimo. Una volta l'ho fatto, eh? Eh, eh, eh. Allora. Qualcuno mi ha detto... Chi è stato? Quals'era stato qualcuno dell'ufficio stampa, un altro quarto giorno, che quando ti è andato a York in una libreria a chiamare le copie del suo ultimo libro, sai, insieme a Barbara Springer, il popolino ha fatto ore di coda per avere una copia del suo libro. Mentre nel Barbara Springer c'era solo una vecchia signora con un cane. Mi ha dato un'altra roba, la Springer si è andata. Sì. Però Chesi ci rende sempre bene, no? Ah, sì. Hai letto niente di buono ultimamente? Ho letto... The AIDS. Ah, The AIDS, sì. Tu lo gestirei stai torcendo la roba. A torcendo? Sì. Ti ricordo che andaste a torcendo da solo, all'arma. Nel gestire. È vero. Te l'ho contato io questo, sì. Sì. Ora andate che se sate ne va bene, a un largo di spedio.